Sì, vogliamo bambam, bambam, triste poi bambam, bambam, motella d'ore e bambam, bambam, ragazzi fuori bambam, bambam. Buongiorno a tutti, la parola di oggi è più che una parola, è la parola grazie. In tempo di quaresima la parola grazie può essere un buon fioretto per tutte quelle parole, per tutte quelle azioni, quei gesti che riceviamo tante volte inconsapevolmente o che diamo per scontato. Ecco, nella semplicità di una parola di poche lettere si racchiude un grande esempio di umanità. La parola grazie è un tassello importante per arrivare a Pasqua. Buona giornata! Grazie a tutti!